benvenuti a una nuova puntata di doctor penis oggi con noi c'è pierfranco a 48 anni è stato operato di per un tumore alla prostata diagnosticato in età molto molto precoce molto giovanile ovviamente dopo un percorso di riabilitazione che non ha dato i risultati che si attendeva dal punto di vista sessuale fortemente stressato e deluso abbiamo impiantato circa otto mesi fa una protesi idraulica peniena tricomponente oggi è qui per testimoniarci la sua esperienza e come si sente soprattutto come stai oggi va io benissimo molto bene ho ripreso la mia vita mia vita sessuale e soprattutto rapporti sociali si sono aperti dopo operazione è stato un cambiamento in 24 ore poi dal giorno alla notte ho avuto la vita che mi sei cambiata completamente con questa protesi riesco di nuovo a confrontarmi con gli amici posso avere una vita normale a livello sessuale sono ancora più diciamo vantaggiata che non una persona che sta bene è un a un approcciata regolare cosa che non avevo perché comunque sto raggiungendo dei livelli con questa pompetta dottoria cioè ecco sono illimitati per cui io da un impotenza assoluta per due anni era impotente castrato diciamo così e anche poi la castrazione è anche mentale dopo quindi è stato in 24 ore ripreso sia fisicamente e mentalmente una un benessere indescrivibile senti l'orgasmo il piacere l'eagulazione non ce l'hai più perché ovviamente non è più la prostata ma tutto quello che fa parte della sensazione del rapporto sessuale com'è tale quale prima migliore perché prima avevo se dovevo quando avevo l'orgasmo se dovevo un attimino riprendere la situazione magari con una sigaretta fare due parole ora questa cosa è continua riscavierà anche l'orgasmo nello stesso rapporto sessuale non ho più problemi di tempismo perché la cosa è veramente veloce per farlo diventare retto e altrettanto veloce per farlo diventare poi è mole quindi è giusto una sono tre touch tre tocchi che cambiano la vita un tocco magico senti ma la sensibilità del pene cioè tu pensi di avere una protesi o hai il tuo pene normale fisiologico io ho il mio pene naturale che uno sente una protesi ma non è una sensazione poi diventano parte del tuo corpo e non si sente più le donne se ne accorgono? devo dire la prima esperienza che io gli ho raccontato quello che io avevo dopo il rapporto sessuale ma ecco fino adesso non ho avuto nessuna complain nessuno che si è lamentata anzi devo dire che tornano tutte dottore non ho avuto problemi lo rifaresti? 100 volte 100 volte 100 volte perché poi è stato così veloce una operazione velocissima che ti cambia la vita in modo radicale proprio dal nero più assoluto all'arcobaleno ai colori da 0 a 10 quanto sei contento? 11 va bene va bene ok perfetto questa era la testimonianza di Pierfranco un grande grazie ci vediamo alla prossima puntata di Dr.Penis